Terremoto vicino a Firenze in Toscana ieri 23 marzo 2022 la sala della professione civile ha fatto sapere che intorno alle 5.54 del pomeriggio la rete di Muglio Reagio di NGV ha registrato uno scosso di terremoto di magnitudo 2.1 a circa 9 km di profondità con epicentro nel comune di San Godenzo. Ci troviamo ovviamente in Toscana vicino a Firenze. Poi c'è stata poi una seconda scossa la più lieve di magnitudo 1.0 alle 6.24 della sera. San Godenzo ricorda a tutti che si trova a circa 50 km dal capoluogo della regione toscana ossia Firenze nella strada che induce e che ti porta proprio alla città di Forlì ed è uno dei comuni della Unione del Val d'Arno e di Val di Sieve. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi cari utenti di Youtube se avete sentito questo terremoto, questi discorsi di terremoto ieri 24-23 marzo 2022 fate per sapere attraverso con o più commenti. Iscrivetevi al canale Narratore Italiano e commentate. Ciao a tutti e una buona giornata.